Adesso voi mi dovete spiegare dov'è che è scritto che uno va a letto di notte e deve per forza dormire La camera da letto, c'è il letto, ma nel letto dov'è che è scritto che devo per forza dormire? C'è buio, non c'ho niente da fare, sono un po' stanco per la giornata, ma se io inverto i ritmi sole, luna, quelle robe lì, giovanotti Cosa succede? Non è una gran vita, però uno può provare, capito? Restare sveglio di notte e di giorno faccia qualcosa, insomma non so, dormi Però c'è la luce, è più logico andare a dormire di notte, ma come si fa a dormire? Bisognerebbe stare senza pensieri, essere un po' tranquilli, per questo è buono che prima di andare a letto Allora, leggi un libro, contemporaneamente mangi una pastiera napoletana, però tanto, tanto Cioè la devi mangiare proprio con peppere, peppere, peppere A voce bassa, però, perché gli altri dormono E poi cantare una canzone tipica degli anni 60 In coreano, però Cioè puoi prendere in italiano, ma te la devi cantare in coreano Perché questo crea nel cervello, praticamente, 54-21 Un congiunzione astrale che facilita il sonno E allora è il solo lì che tutto il lavoro di Mastrotta ha un senso, capito? Perché se no vendi materassi per far cosa? Non so cosa farci con il materasso Non so cosa farci con il nostro lavoro di Mastrotta ha un senso